ah si è nella cameretta dei bambini no c'è uno che si chiama Ares non è possibile è una sfida questa è una sfida questa è una sfida basta no 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 accetto tutto ma questo no Barry Ares è mio spero che l'ha scritto nello stesso identico modo da bimbo minchia non che tu sia un bimbo minchia ma la sono presa ahia sta insinuando che tu sei gay mancano 10 secondi 5 secondi ottimo lavoro la posizione dell'ostaggio rimane ignota sentito un coso io me ne vado da qua no ma tu sei qua uno alla finestra delle scale sta arrampicando bravo eccolo ti sta nel culo bastardo io sono Ares non tu io uno qua da te minchia è ferito è ferito è ferito ce n'è un altro ah ferito nel senso ok ho capito yeah mamma mia li abbiamo fatti fuori tutti noi praticamente sì vabbè quello l'ultimo che ho ucciso io era quello che hai buttato giù tu quindi è tua sì quindi hai fatto una strage mamma mia hai ucciso Ares e ti sei beccato un boost Ares va più che bene conferma lo stagio è stato trovato ok vado a salvare la macchinina da qualche parte come non detto mi sono fermato troppo a lungo per asportarle chissà chi è l'ultimo non si è visto quindi se nascostrà a qualche parte sì io ho paura delle finestre io ho due scelte mi metto a correre come un matto e vado lì sopra allora non vedo nessuno nel corridoio eh sappiamo che tre di almeno tre di loro camperano io nel corridoio non vedo nessuno ah ok continuo a coprire il corridoio e poi arrivo io e cerco di sfondare quella allora se sfondi quella io riesco a combinare qualcosa tu sei Ash? no no io sono Thermite ma tanto una granata dovrebbe andar giù mi sembra no non basta una granata non lo so sai è andata vedi qualcosa? un secondo sono da un'altra parte eh che cazzo torno là torno là allora te lo dico subito e adesso sto guardando qua davanti io da lì Barry io da lì allora io non vedo nulla davanti a me prova a sfondare quella del bagno non si è sfondata c'è ne uno dietro lo su ok ho un'idea ho un'idea mi sposta? no 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 resta lì io vado mi sono spostata vado nella finestra alla tua sinistra ormai me ne sono andato ah ok fammi fare un giro aspetta tutto rinforzato non capisco niente ok signor Barry che bello non sono servito a niente ciao ah tutte le macchinine sono qua tutte che cazzo oh 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 che cos'è questa invasione io mi rimetto nel bagno anche se penso che stavolta se lo aspettino io giro vado di sotto mi sento già con le corde pronti ad accoglierli arma fissa pronta all'uso che che spara ricarico porta barricata bene c'è uno potrebbe arrivare dalla finestra delle scale anche se la telecamera è andata quindi non lo so ok quello nella camera di bambini è entrato ti ho ucciso c'è lo scudo nella stanza di bambini c'era dovrebbe esserci anche termite ah sì è nel cameretto dei bambini aiuto pochi colpi aspetta è un deficiente caduto addio mondo crudele minchia addio è andata bene questa si è andata bene minchia finalmente almeno una ce la meritiamo si comando io comando io non hanno ucciso nessuno questi qua in tutta la partita comando io tu sei il falso Ares grazie a tutti